E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre il nostro Jurassic 4.0.10 e oggi siamo qua nuovamente in questo gioco, sì esatto, siamo qua nuovamente in World of Warships sì, perché in questo tempo che sono rimasto fermo non ho smesso di giocare questo gioco non sono andato molto avanti, infatti dal livello di navi 2 mi pare, sono passato al livello 5 comunque sono sempre stato sul tipo di corazzate perché le corazzate sono fighe ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito la nostra battaglia ok eccoci qui, allora per quelli di voi che ancora non conoscono questo gioco è un simulatore di battaglie navali praticamente nel senso che noi effettivamente guidiamo una nave e ci sarà una battaglia in questo campo che appunto sembra una scacchiera della battaglia navale molto semplicemente in prima persona potrebbe non piacere a tutti come gioco perché è un gioco ok, il pilota automatico attivato perfetto, la battaglia comincia perché come stavo dicendo è un gioco abbastanza realistico nel senso che anche le navi sono lente a muoversi e fanno praticamente tutto lentissimo, ok? quindi a molti potrebbe non piacere perché è abbastanza realistico anche ad esempio se noi vogliamo sparare da questa parte ok, vedete i cerchietti gialli? i cerchietti gialli sono le nostre armi che si stanno girando infatti vedete come si muovono lentamente appena sono allineate diventano verdi e possiamo sparare possiamo fare fuoco ovviamente adesso ho sprecato infatti vedete che l'arma numero 3 qua sotto un attimo che... ok l'arma numero 3 qua sotto vedete che si sta ricaricando è un gioco che a me piace personalmente è un gioco molto molto figo è fatto molto bene infatti dopo vedrete anche... anche proprio la battaglia è strutturata benissimo nonostante appunto sia un gioco lento non è un gioco per tutti diciamo io lo porto perché a me piace se però a voi... a voi non piace semplicemente schippate il video allora... allora... ok siamo stati individuati da degli aerei non è proprio il massimo allora noi stiamo all'anno di qua però di qua non sta venendo nessuno quindi rallentiamo un attimino e aspettiamo queste qua perché si è un gioco da fare abbastanza di squadra allora... adesso non so perché non... no... eh no ok perfetto mi hanno individuato ok rallentiamo così aspettiamo con le navi qua dietro che ci seguono perché vedo che stanno venendo verso di noi quindi forse ci vogliono seguire oh 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 eh eh oh di già? quella è una corazzata quindi in teoria 15 metri a questa distanza vedete? dobbiamo anche calcolare il tempo di sparo perché non è che i proiettili spariamo e arrivano subito vedete che fanno la palombella e devono arrivare praticamente quindi non è facile ok però non mi aspettavo questa cosa non mi aspettavo di essere già colpito e quindi niente questa partita sarà strabella usiamo già la T ok grandi però che intanto gli altri sono arrivati dietro di noi grandi ci stanno sparando tutti ma che bella roba ok quella si sta girando quindi ho sparato in questa direzione adesso scompare perché va nella nebbia però dovremo beccarla grande ok cambiamo i proiettili però dammi i proiettili perforanti anche ci sono un po' tante navi vi dirò io farei un'inversione di marcia in questo momento proprio girerei stiamo andando a metà potenza allora metà potenza per le corazzate allora io non sono un grande giocatore però se mi permettete di darvi un consiglio metà potenza è migliore per le corazzate perché così hanno tempo di girare i cannoni e in caso di accelerare o frenare se succede qualcosa poi ovviamente vedete voi non è... io lo consiglio poi poi come ho detto non sono né pro né niente quindi ops ok ok grande andiamo a... adesso andiamo a tutta potenza per favore ok vediamo se riusciamo a beccarla ok quella lì è una nave un cacciatore venire normale quindi va abbastanza veloce quindi l'abbiamo mancato ok ok giriamoci giriamo intorno a quest'isola vai autopilota giriamo intorno a quest'isola ok rallentiamo a metà potenza di nuovo ok non stiamo giocando male non stiamo giocando male ok mi ha beccato la cittadella non è un problema ok vediamo se riusciamo a beccare il tipino là ok sta girando quindi c'è questo aero qua che ok è solito un aero di sfondo perfetto è molto ingannevole quale aero lì mi hanno individuato ok va che andiamo dietro al tipo qua che mi sembra buono ecco lì ok contro le corazzate so dove sparare nel senso che vanno lente quindi bisogna sparare un sacco in anticipo contro le navi normali non le so affrontare ok tra l'altro abbiamo già perso un sacco di vita e non è bello non è bello aspettami aspettami che vengo anch'io stai lì non andare da solo oh allora lì ok vediamo se la becchiamo si si casca la becchiamo dritto dritto con tutti mi sa grande boom ok bersaglio abbiamo fatto guardate quanto danno che abbiamo fatto abbiamo perforato abbiamo fatto almeno 10 volte tanto il danno che li faremo normalmente quindi quella è andata quella è andata però adesso se andiamo da questa parte ci sono le altre navi quindi bisogna fare un'inversione bisogna fare oh bisogna fare un'inversione esagerata allora invertiamo la marcia completamente questa cosa è pericolosa adesso vi spiego perché è pericolosa perché adesso giriamo tutte le armi al contrario siamo fuori portata con tutte le armi qua siamo contro la fine della mappa ok e non è bello perché non possiamo scappare in nessun modo in caso ci attaccassero guardate quella navola come fugge eccola appunto no ok i siluri in realtà sono finti vediamo se riusciamo a batterla no troppo troppo tardi era troppo lontana ok ok però fortunatamente nessuno di quelle navi lì che ci ha portata tranquillamente ci sta sparando non ci sta sparando nessuno quindi abbiamo molto culo diciamo in questo momento non si abbattiamo le armi grande almeno li togliamo dai piedi ok buono adesso vedete che praticamente i cannoni principali uno e due si stanno girando e ci metteranno molto tempo a girarsi quindi è bene che lo facciano questa mi sa che li ho persi entrambi esatto perché c'era la isola fantastica questa potremmo beccarla però questa qua è lì all'aperto per secondo me quella lì ha giocato malissimo buono ok stiamo per rigirarci ok ok vediamo se riusciamo a fare qualcosa bene non stiamo facendo troppo danno però le corazzate sono lente ok in realtà noi dovremmo fare da scudo gli altri ma in questa partita non c'è venuto nessuno dietro quindi va bene così spariamo tranquillamente alle navi e vediamo che cosa succede allora no no ecco quella quello è pericolosissimo quindi per favore abbattilo 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 perché quello lancia i siluri ok lanciando i siluri i siluri sono un'arma letale contro noi corazzate sapete perché perché essendo lente non le corazzate essendo molto lente fanno fatica a girarsi i siluri ti vengono addosso e ti distruggono che usiamo T per favore adesso quella nave lì ha uno sputo a 96 di vita non riesco a beccarla no perché c'è l'isola grande l'hanno distrutta non ho preso la kill ma quella lì stava rallentando e io ho sparato troppo in avanti no forse no ok non stava rallentando stava andando a velocità lenta stava andando a velocità 1 ok andiamo a un mezzo di potenza come dicevo ok ok non stiamo giocando per ora siamo in vantaggio per ora però siamo in vantaggio con le navi non è detto che siamo in vantaggio perché magari tutti noi abbiamo pochissima vita e l'oro tutta piena quindi andiamo contro direi vediamo se lasciamo a beccarla ok l'ho mancata ok come vi dicevo non si infatti guardate quanta poca vita che abbiamo noi rispetto a tanto questo qua non sta giocando svi svi jim jim query man non sta giocando quindi è strabello è fantastico è fantastico anche quella nave la lasciamo non l'ho indietro anche quella lì è fuori portata quindi l'unica nave che possiamo colpire oh si è bagato tutto è quella al momento so che quella è un pochino vediamo se riusciamo a fare questa cosa vediamo se riusciamo a beccarla se va dritta la becchiamo se va dritta infatti buono non con poche armi però l'abbiamo beccata adesso giriamoci contro quella corazzata lì vai a full potenza contro quella corazzata lì quindi giriamo intorno all'isola così teniamo tutte le armi puntate sempre su di lei così almeno siamo tranquilli ok ok vediamo se riesco a beccarla già da dietro l'isola si buono buono ok ecco vedete là che ci sono i fantastici buono abbiamo fuoco a bordo fantastico fuoco a bordo è meraviglioso usiamo subito R vai spegniamo subito l'incendio è perché quella 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 nave la quella normale praticamente sta usando i proiettili incendiari questa l'ho mancata vero? sì no sì l'ho mancata lo sapevo quella nave è là dietro nascosta dietro già sta usando i proiettili incendiari ok ok finchè sono ok fortunatamente ci ha abbastanza mancato vediamo se buono questa la prendiamo sicuro è frontale a noi questa è frontale a noi non possiamo mancarla infatti ok giriamoci ok ecco questo è molto pericoloso esatto 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 questo non li possiamo evitare ok ne ho evitato uno ti usiamo usiamo ti usiamo ok siamo ancora in vantaggio al momento però o almeno così pare abbiamo sprecato un sacco di proiettili ma non è un problema ok però l'abbiamo colpito vediamo se riusciamo no ovviamente non riusciamo perché ok c'è un'altra nave ok andiamo di qua al massimo ok noi siamo tutti qua in fondo praticamente non è bello no andiamo di qua deciso cambiato strada andiamo verso l'apertura che c'è di qua non possiamo batterle tutte non possiamo batterle tutte non possiamo batterle tutte però possiamo battere quelle che troppo in avanti si stava fermando quella lì troppo in avanti ok adesso qua andiamo così ok ok gli ho messo il target il target cosa vuol dire appena mi avvicino appena mi avvicino con la nave lì praticamente tutti i miei canoni secondari sparano addosso a quella nave lì e praticamente cercano di non sparare alle altre navi non è un problema visto che c'è solo quella nave lì però intanto lo mettiamo così intanto se non lo sapevate adesso sapete che potete puntare una sola nave dove buono ok che direzione sta andando secondo me è semiferma quindi gli spariamo così bene c'è un errore che sta andando verso di me no ok era ferma grande però l'abbiamo mancata abbastanza bene ok qua la nave lì è inutile continua a girare così appena mi avvicino la nave lì è andata ok siamo l'ultima nave in partita bello bello non sono guarda non sono per niente preoccupato ti dirò vi dirò non sono per niente preoccupato di essere l'ultima nave in partita vediamo se riesco a beccarla è mancata buono ok mi conviene distruggere in realtà quella porta aerei lì mi conviene distruggere quella porta aerei lì che cosa suoni che non c'è niente mi sta suonando che c'è prossimità non è vero non c'è niente ok anche becchiamo quella porta aerei lì per favore proprio distruggiamola distruggiamo quella porta aerei che almeno non lancia più i suoi cioè non vedo nessun aereo in giro però in caso ne avesse ancora buono ok siamo in fiamme adesso l'unica nave che rimane è quella nave lì allarme incendio ripara incendio perché non abbiamo più vita ok non possiamo più ripristinare la vita ok tra l'altro mi sa che sto facendo potrei potrei aver fatto il mio record guarda guarda come gira sì ma tanto ti becco perché sparo male contro cosa vediamo grande mamma mamma li abbiamo invitati siamo dei grandi quella nave lì sta facendo il culo ci sta facendo quella stupida nave lì ci sta facendo tantissimo il culo ok facciamo così catturiamoli la loro no no questa cosa è brutta dove? dove? ok ok catturiamoli la loro eh sì è arrivata un'altra bello face ok vediamo se riusciamo a fare qualcosa con la nave lì mi sta dando sui nervi ok beh ci abbiamo provato almeno dai è stato però è stato molto figo dai tutti no contro madonna contro la punta dell'isola ci abbiamo provato non penso di non penso di poterli battere anche perché gli altri no non hanno tutta la vita in realtà però quella mi ha fatto davvero danno mi è mandato in fiamme e appunto e non ho i cannoni ho i cannoni girati male in questo momento ho i cannoni girati molto male vediamo se eh non posso farsi niente posso anche provare a catturarla ma non eh infatti eh vabbè vabbè sconfitta ma sconfitta ma due navi distrutte praticamente quasi tutte le altre distrutte non è andata male è andata molto 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 bene più di quanto mi aspettassi vi dirò facevo questo video così giusto per fare una partettina e invece mamma mia è stata epica è stata epica questa battaglia mi è successo molte volte rimanere da solo eh anche perché nessuno è lì insieme a seguiti quindi di solito vado sempre insieme al gruppo ma questa volta sono andato dalla parte in cui non è andato nessuno quindi ho sbagliato a scegliere la strada praticamente ma è stato molto figo che siamo rimasti da soli molto molto figo quindi vi ricordo lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto seguitemi sui social quindi su instagram facebook e ovunque voi vogliate e noi ci vediamo al prossimo episodio di world of warships quindi ciao a tutti